Davide Luppi non nega e non nasconde la trattativa con l'Avellino. L'attaccante, che è già stato alla corte di Bucaro nel Manfredonia nella stagione 2009-2010, non si sbilancia ma mette il contatto. Il calciatore si dice interessato alla piazza Biancoverde, ma confessa di non volersi sbilanciare. Guarda, solo che il contatto c'è stato, ma la cosa al momento è un attimo in stallo. Non siamo andati avanti nella trattativa, ma comunque sì, è stato un colloquio. Poi sicuramente il progetto è un progetto interessante, quindi adesso valuteremo. Il calciatore si dice interessato alla piazza Biancoverde, ma confessa di non volersi sbilanciare. No, infatti ho detto che il progetto è interessante, quindi di conseguenza è una cosa che prendo in considerazione, ma adesso non mi sbilancio nelle dichiarazioni e nelle affermazioni, quindi vediamo. Non posso dire niente e onestamente non saprei neanche cosa dire al momento.